Torna in primo piano una vecchia vicenda, quella del mostro di Firenze. Le indagini su quei delitti ora si concentrano sulla figura di un ex legionario, oggi ultra ottantenne. Vediamo con Federico Monechi. Giampiero Vigilanti è il nome che riapre il caso del mostro di Firenze, 32 anni dopo l'ultimo duplice delitto sulla collina di Scopeti, la notte dell'8 settembre 1985. Le vittime Nodin Muriot e Jean-Michel Kravashvili. I familiari della vittima francese non si sono mai arresi, rassegnati. Il loro avvocato presentò un esposto, i carabinieri del Rossi riaprirono faldoni, riesaminarono verbali. L'attenzione si concentrò su Giampiero Vigilanti, oggi 86 anni, e l'inchiesta è ripartita dal Mugello, il Mugello di Pietro Pacciani. L'uomo è originario di Vicchio, dove il mostro spiò e uccise nell'84. oggi vive a Prato e negli ultimi mesi è stato interrogato e portato sui luoghi dei delitti delle coppie di fidanzati. Il suo nome è legato a due episodi dell'indagine, una perquisizione a metà settembre 1985 dopo l'ultimo delitto, poi nel 94, quando i carabinieri gli trovarono in casa 176 proiettili Winchester calibro 22, serie H, lo stesso tipo della beretta calibro 22, che sparò negli otto agguati e non è mai stata ritrovata. Sui suoi racconti ragiona il procuratore Paolo Canessa, che portò a processo Pietro Pacciani, Mario Vanni, i cosiddetti compagni di merende, e oggi riflette sui verbali di un anziano ex grazie. 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 Grazie.